Nonostante facessero parte di un'associazione di volontariato, si qualificavano come una fantomatica sezione speciale di polizia giudiziaria e come guardie particolari zoofile, identificando e procedendo all'escursione di varie persone, ma anche inoltrando per due volte comunicazioni di notizie di reato alla procura di Perugia. Per questo, a 17 persone, è stata notificata la conclusione delle indagini per usurpazione di funzioni, falsità ideologica, truffa, aggravata in minacce. Dagli accertamenti è emerso che tutti gli indagati facevano capo all'associazione con sede principale a Santa Maria, Tiberina, pur riconosciuta a livello regionale anche con incarichi di protezione civile, servizi ambientali, assistenza alla popolazione e ausiliari del traffico. La struttura interna, si spiega in un comunicato del procuratore Raffaele Cantone, era pressoché simile a quella dei corpi di polizia, con gli appartenenti che indossavano gradi militari, utilizzavano uniformi identiche a quelli in uso alle forze dell'ordine e si muovevano con auto di servizio munite di lampeggianti e sirene. Le indagini sono state condotte dalla polizia locale di Magione e dal personale di vigilanza e ispezione del servizio igiene urbana e randaggismo della USL Umbria 1. È emerso, sempre in base a quanto viene riferito, che gli associati erano soliti eseguire posti di controllo lungo le strade provinciali, utilizzando mezzi con lampeggiatore blu e palette con loghi ministeriali indossando giubbetti antiproiettile. Redigevano inoltre verbali, letture di microchip e davano prescrizioni in materia sanitaria sulla detenzione degli animali. Secondo la procura, negli anni il gruppo era riuscito ad accreditarsi con qualifiche mai conseguite presso la Regione come associazione di volontariato e di protezione civile, nonché a stipulare convenzioni con vari comuni e con l'Agenzia forestale regionale. Con l'avviso di conclusione e indagini, gli inquisiti potranno presentare documenti a sostegno delle proprie tesi difensive e chiedere di essere interrogati.